cari amici ben ritrovati eccoci insieme nuova puntata di dimmi di più anche oggi conosceremo un nuovo ospite diamo subito il benvenuto a Mimmo Zingrillo benvenuto imprenditore di successo allora noi iniziamo subito la nostra trasmissione noi iniziamo subito la nostra trasmissione con la domanda diritto chi è Mimmo Zingrillo diciamo la figura dell'imprenditore certamente però di fondo la serenità il piacere di vivere anche un ambiente familiare altrutto con i miei genitori ancora che ci sono mia moglie i miei figli molto positiva quindi decisamente corroborante poi piacere anche di condividere nella mia città una serie di amicizie di rapporti di relazioni quindi nella mia nel mio modo cercare di essere semplice essere sempre disponibile poi ne parleremo anche in seguito questo è un po la la figura fondale il modo il modo mio di essere diciamo in da un punto di vista sociale ed eventualmente anche imprenditoriale e allora partiamo proprio dalla tua vita professionale il tuo mondo intorno a cui poi gravita tutta la tua vita allora sono trascorsi ben 102 anni da quando il tuo bisnonno Ruggero fondò l'azienda di famiglia quindi una storia lunga e siete alla quarta generazione certo allora il mio bisnonno Ruggero cominciò negli anni venti primi anni venti appunto a costruire le bilancio le stadievi queste questi sistemi meccanici di pesatura la sua volta lui aveva tre figli maschi anzi meglio quattro di cui uno si occupava anche di altre si occupa di altre cose però la consecuzione diciamo familiare raffidata appunto i tre figli miaschi che nei primi anni trenta anzi nella metà degli anni trenta successivamente poi nel posto nel dopoguerra hanno proseguito l'attività di famiglia ad un certo punto purtroppo mio nonno uno dei tre fratelli morì in guerra e gli altri due fratelli poi a loro volta hanno proseguito l'attività e contestualmente mia nonna la purtroppo in quel momento vedova si sposò con uno dei fratelli come probabilmente si usava una volta era un meccanismo anche di far rimanere in famiglia quindi mio papà che aveva sei mesi è stato sostanzialmente cresciuto da questo che poi sostanzialmente è diventato anche mio nonno questi due fratelli hanno proseguito la loro attività in società fino a metà degli anni sessanta in cui le aziende le famiglie per tutta la sede di motivazione si sono suddivise quindi così come possiamo anche noi raccontare attraverso dei percorsi successivi e attraverso degli sviluppi successivi di altre realtà sempre in settori similari alle nostre o in settori anche paralleli se così vogliamo dire e quindi di conseguenza poi siamo arrivati alla seconda alla terza generazione mio padre la quarta generazione sarei io poi vediamo gli sviluppi successivi abbiamo ci sono due ragazzi dei figli macchi c'è mia sorella che c'è due ragazze probabilmente potremmo arrivare alla quinta generazione ma faremo fare ai ragazzi quello che loro vogliono E questo è il vostro obiettivo? No l'obiettivo che i nostri figli stiano bene siano convinti e consapevoli di fare quello che vogliono fare poi se loro dovessero scegliere di proseguire l'attività dovessero scegliere di fare altro ci andrebbe bene lo stesso perché come posso dire attrarre troppo e viceversa respingere troppo i propri ragazzi delle proprie attività imprenditorie non va mai bene perché bisogna cercare di raggiungere il proprio giusto equilibrio e lasciarli fare le cose che si sentono come è stato per me anche che ho sentito come forse è stato per mio padre senza nessun obbligo ma nel contempo senza nessuna sensazione di respingimento molto spesso si sentono amici imprenditori che ci sono mio figlio non deve fare questa attività non è detto perché se un'attività funziona va bene c'è una prospettiva chiaramente imprenditoriale seria faccia scelga lui che cosa vogliamo fare ecco tu come ti collochi in questa azienda nel senso è stata una tua scelta consapevole spontanea quasi normale perché magari nel passato c'era più questa tradizione di continuare nell'azienda di famiglia un po' per portare avanti il nome di famiglia e anche i sacrifici fatti insomma gli sviluppi le prospettive oppure in qualche modo si è stato condizionato dagli eventi no io non sono stato assolutamente condizionato cioè probabilmente che era un momento in cui c'era un bisogno di supporto all'interno dell'azienda di mio papà che in cui era sviluppata da mio padre anche da mia mamma che quel periodo lavorava in azienda non ho avuto nessun tipo di obbligo né di in posizione non ho sentito questo b poi magari nel tempo percepito questa questo valore aggiunto dell'aspetto familiare integrato all'interno dell'azienda e viceversa ma non ho mai avuto una pressione da nessun punto di vista ci sono entrato naturalmente sviluppando poi delle competenze più perché poi la nostra azienda poliedrica da un punto di vista funzionale bisogna ecco bisogna avere una competenza generalizzata su tutto ma poi nello specifico ci sono questi collaboratori o eventualmente altri familiari che servono queste quindi assolutamente è proprio quello che cerco di trasferire i miei figli mio papà non mi ha mai detto vieni con me perché c'è l'azienda di famiglia dobbiamo proseguire no mi ha dato soltanto gli strumenti di rapporti di relazione di conoscenza che poi mi sono serviti per proseguire la mia attività ecco ma i tuoi figli e i figli di tua sorella perché appunto in azienda con te c'è anche tua sorella e tuo cognato si affacciano un po con interesse a questo mondo aziendale oppure quindi c'è qualche speranza che si arrivi alla quinta ma la speranza che il loro quattro perché sono ci sono i miei due figli maschi e poi ci sono infine che loro quattro come dicevo prima vivano bene poi sono tutti a quattro al momento i ragazzi con la testa sulle spalle e quindi c'è mio figlio il grande che il più grande oltretutto dei quattro che oltre a fare un percorso universitario parallelamente oltre a gestire anche una sua passione perché lui è un dj producer del mondo della musica per mezza giornata al momento stiamo in azienda e si sta approcciando poi lo faccio non lo faccio non lo so perché potrebbe diventare il più grande dj di questo mondo oppure fare altre scelte gli altri tre sono giovani stanno facendo un percorso universitario poi quindi non faccio discorsi maschilisti o diciamo di sessisti se così vogliamo dire quindi fare il loro percorso potrebbe essere come non potrebbe essere noi siamo disponibili e pronti aperti certamente bisogna avere un approccio perché il mercato il mondo in tutti i settori ma il nostro magari in uno specifico cambia quotidianamente neanche annualmente quindi bisogna avere sempre un'attenzione alle attività in termini di progressione di innovazione allora voi vi occupate del settore di fornitura di aree di attrezzature nel mondo food tu e tua sorella con tuo cognato siete un po i perni principali intorno cui girano gli altri avete circa 25 collaboratori ci avete una forza lavoro giovenile che la linfa diciamo nuova vitale per questa azienda diciamo che probabilmente tra tra noi i nostri collaboratori attraversiamo almeno uno barra due generazioni mi spiego meglio c'è una parte di giovani che sono entrati ultimamente ma c'è uno zoccolo duro una storicità di collaboratori che collaborano con noi da 25 30 anni in quasi tutti i reparti quindi c'è l'esperienza la professionalità la conoscenza specifica di settore ma poi di fondo come dicevo prima c'è questa linfa di nuovi giovani nuovi ragazzi tra cui probabilmente inserisco anche mio figlio che chiaramente danno degli input in termini diciamo di miglioramenti e di crescita che mescolando tra di loro professionalità conoscenza ed esperienza con gioventù e voglia di fare creano quel mix che dovrebbe creare i presupposti positivi per il futuro quindi è questo insomma e dico anche che proprio grazie ai nostri collaboratori cioè possiamo essere noi diciamo che prende le decisioni se così vogliamo dire ma se non ci fossero loro che ci organizzano ci riescono e ci risuovono una miriade di problemi probabilmente non saremmo neanche qui a parlare è un lavoro di scuola assolutamente e com'è il lavorare in famiglia? la confidenza dico io a volte in alcune situazioni perché è successo con mio padre eleva i momenti di diciamo di frizione ma nel contempo poi fa migliorare decisamente i rapporti soprattutto partiamo da un presupposto io sono uno che crede molto all'aspetto familiare cioè per me la famiglia proprio in termini di insegnamento di crescita di substrato basilare su cui costruire rapporti è determinante quindi a parte quei momenti di di confidenza che sfociano a volte magari però poi il giorno dopo finisce tutto e non ti si lega al dito niente mentre viceversa ogni momento di scontro con chi non è con chi non è un rapporto familiare di confidenza a cui sei portato a giustificare tutto e su cui probabilmente anche chi è di fronte ti giustifica rimangono i segni aperti mentre in famiglia queste cose non succedono ma servono per migliorarsi e per conoscersi meglio per attivare al meglio la propria attività l'attività aziendale. Tu da bambino cosa sognavi di fare da grande? Diciamo il sogno di tutti i bambini poi era fare il calciatore diciamo ma non avevo un sogno specifico mi è sempre piaciuto lo sport perché il calciatore? Perché amavi giocare a calcio? No perché giocare a calcio lo sport in generale poi forse ne parleremo dopo ma era quel sogno da piccolino da bambino poi però l'idea di entrare in azienda è sempre stato perché ho sempre visto questo aspetto dell'azienda la terza la quarta generazione poi anche sono stato leggermente scavezzacollo in termini positivi quando ero ragazzo quando sono stato messo di fronte alla responsabilità forse grazie a quale essere stato scavezzacollo tra virgolette poi ho creato i presupposti però il mio sogno era appunto quello di avere sicuramente il mio sogno è quello di avere una famiglia similare a quella dei miei genitori dei miei nonni e quant'altro ma l'aspetto ludico ha sempre fatto parte della mia vita perché non dimentico mai che va bene il lavoro le attività però ci sono anche momenti di passione che bisogna viverli altrimenti che attraversiamo a fare la nostra vita solo per lavorare o viceversa solo per giocare no il mix giusto che bisogna realizzare bisogna compensare le situazioni anche perché la vita da imprenditore non è una vita proprio facilissima cioè ricca di soddisfazioni che permette di metterti in gioco di esprimere le tue idee di le tue strategie però è anche vero che comporta tanta responsabilità e ci sono i cosiddetti rischi del messiere e diciamo il rischio è quotidiano anche per chi non fa l'imprenditore perché poi il vivere quotidiano anche di chi non diciamo ci sono pre conto come in ogni cosa io sento non ne potrei più fare a meno di prendermi delle responsabilità poi si entra in un meccanismo in un loop tale per cui ti dà adrenalina il fatto di poter fare dei ci prende decisioni anche nel bene e male soprattutto prende decisioni in maniera affrettata più che affrettata veloce perché quello l'imprenditore soprattutto secondo me deve essere contraddistinto da questo la velocità a volte magari commetti degli errori ma la velocità delle decisioni ti permette poi se invece pensi troppo e a quel punto io non sento il carico di responsabilità però voglio guardo anche il giardino degli altri mi rendo conto dove grazie a lavoro grazie all'impegno probabilmente alla fortuna c'è chi invece non riesce ad avere quelle serenità sociale familiare lavorativa e lì guardando lì bisogna appunto apprezzare molto di più quello che sia nella nostra quotidianità che sia di imprenditori o sia da lavoratori dipendenti quindi mi sento soddisfatto e non mi preoccupano le responsabilità anche perché le responsabilità le preoccupazioni gli ostacoli come li vivi come un momento di crescita di cambiamento perché poi tutto ciò che ti prova ti fortifica ti rende capace poi di affrontare nuove sfide certo innanzitutto le vivi come un momento di stress perché quella prima perché partiamo dallo stress sono molto reattivo io sono anche molto diciamo si è apprensivo anche apprensivo ma sono anche reattivo vivo la tensione in maniera devo in quel momento devo scaricare subito e vivere subito quel momento adrenali tipo cosa fai dai di fronte di fronte a un problema io reagisco in maniera virulente usiamo questo termine a volte di meni soprattutto con me stesso a volte con qualcuno però probabilmente ci conoscono e sanno che quel momento in cui mi devono lasciare e poi di conseguenza comincio a riflettere mi faccio carico del problema e lo affronto ma se non avessi quella reazione se lasciare il problema avrei avrei una caterva di problemi accumulato sulla scrivania del pensiero che probabilmente non riuscirei a sfidare una per volta e si accumulerebbero e non risolvono le risorse quindi quello è un momento che mi serve per scaricare ed essere subito operativo insomma questo generalmente è quello che faccio e allora curiosiamo un po' nella tua azienda abbiamo delle belle foto partiamo proprio da una foto storica un secolo di storia passione professionalità leggiamo su questa foto questa la foto appunto di mio nonno ruggero fondatore delle aziende con mio papà sul sul trespolino dove io costruiva le sue bilance in quel momento vedo probabilmente probabilmente perché mio nonno cioè il figlio di ruggero nonché papà di mio papà è morto quando mio papà aveva sei mesi prima aveva il 41 lui è morto a ginio 42 in grecia durante durante purtroppo la guerra priva dell'armistizio è stato quindi per l'armistizio e quindi era in bottega e poi era diventato sostanzialmente il primo nipote anche per oggi quindi stavano probabilmente costruendo qualcosina e ha messo il nipote sul trespo del dell'officina e questo invece mio nonno c'è il figlio di ruggero nonché papà intanto che si chiama raffaele come mi chiamo io raffaele come primo nome probabilmente lo stesso toro ora mettendo in parallelo lo stesso toro lo stesso si vede praticamente visto da un angolo questo è solo con una luce diversa una cosa che non c'è mai fatto caso quindi sempre via piede delle vigne dove sta lavorando una lima e quindi con i capelli impomatati come si diceva negli anni fine anni 30 qui credo che lui abbia tra i 18 e 20 anni massimo quindi parliamo di fine fine anni 30 insomma e questa invece è una foto proprio dell'attività certo questo è il classico angolo piazza all'epoca piazza rumo attuale piazza al domuro dopo e quindi l'azienda di mio papà che si chiamava in quel periodo mio papà cominciava ad essere autonomo a livello aziendale metà anni 75 77 credo che sia più o meno intorno a quel periodo questa l'azienda si chiama zika arredamenti signora zingrillo centro arredamenti e refrigerazione le macchine dei tecnici dei rappresentanti quindi le diane questo questo all'angolo storico dove poi si è sviluppata poi successivamente ci siamo trasferiti momentaneamente in sono tutti collaboratori di collaboratori dell'epoca di cui buona parte ci sono ancora che lavorano ancora con noi direi 30 40 per cento poi questa è la foto successivamente fatta e realizzata nel nuovo capanno industriale dove voglio ricordare che ogni volta che lo vedo mi emoziona tantissima il ragazzo che tira la corda che giuseppe sforza che purtroppo non è stato fortunatissimo nella vita uso questo termine qui mi fermo perché mi emoziona a pensare a lui lui c'è ancora ma un ragazzo d'oro che proprio per il suo essere del ragazzo d'oro in quel momento l'abbiamo utilizzato come emblema perché noi abbiamo sempre tirato la corda come momento di supporto ai nostri clienti tiriamo la corda insieme cerchiamo di risolvere i problemi c'è il mio parere in prima fila è una serie di collaboratori dietro e giuseppe è il capo fila come cliente che aiutiamo a tirar fuori e quindi lo ricordo c'è c'è giuseppe ancora c'è però lo ricordo con molto piacere qui mi fermo questo è il vostro ma questo è il nostro marchio nuovo dal 1922 con anche la simbolistica dei cento anni nel successivo marchio quindi questo è questo è il nostro per chi eventualmente ci passa sia in treno lì davanti sia in su via trani abbiamo la nostra struttura dal 2006 che operiamo e questa è la festa di cento anni fatta del 2022 con il gruppo di collaboratori del momento in cui 90 per cento ancora esistente opera esiste tutti tutti ci sono quindi era l'ultima foto che riguarda l'azienda allora abbiamo accennato ai tuoi figli come si chiamano si chiamano alessandro e marco che padre sei tu parte l'emozione sui figli allora tu sei sposato cambiamo argomento sei sposato poi torniamo sui figli allora sei sposato con tua moglie da leggo subito 29 anni che aggiunti agli otto anni di fidanzamento sono ben 37 anni di vita insieme allora qual è il segreto di questo amore di questo sodalizio di questo affetto come vogliamo chiamarlo di questa vita trascorsa insieme mano nella mano le discussioni i confronti aiutano non ci pensa io ti sto distraendo allora tua moglie innanzitutto partiamo dal nome mia moglie si chiama Luisella quindi abbiamo visto cioè ci siamo conosciuti da giovanissimi perché insomma avevamo 21 anni certo 37 anni 20 anni lei diciamo abbiamo ci siamo frequentati per quegli otto anni dico le discussioni perché proprio nelle frizioni nel conoscerci ma soprattutto di base abbiamo entrambi un concetto della famiglia che ci fa andare ben oltre le discussioni perché da quello si deve partire se il bene familiare va oltre dei momenti magari di debolezza di qualsiasi natura si sia o di aggressività o di confronto eccessivo è quotidiano perché in qualsiasi situazione chi dice no a casa mia non succede mai niente secondo me sta una grandissima la famiglia del mulino bianco io credo non è sì poi si creano quelle interazioni poi soprattutto mia moglie figli anche figli anche di imprenditori e anche l'imprenditrice fino a un certo punto capiva quelle che non le problematiche degli orari perché molto spesso dipende anche da quello quindi il fatto di capire gli orari determinate situazioni o momenti anche di scomporto perché alla stessa azienda non ha dei dei momenti di alto e basso come nella vita familiare però il diciamo il volerci bene uno stare insieme il condividere e condividere anche qualche passione viaggio qualsiasi altra cosa poi nel tempo ti fa ma tu ci ha ma ci ha fatto come in tutte le situazioni tutte le copie e ci crea una positività di rapporto di relazione di costruzione che vorremmo arrivare probabilmente ai 50 come i miei genitori sia proprio si approcciano quasi 60 anni di matrimonio quindi è un diciamo è un bel vivere con mia moglie da questo punto di vista come scoccata la scintilla dell'amore è stato colpo di fulmine o una frequentazione diciamo all'epoca per chi ha qualche capello bianco più di qualche capello bianco ci si frequentava c'è la glutoneria in via pasticceria glutoneria in via sant'antonio in via renato coletto è del momento di aggregazione dei giovani quindi attraverso le frequentazioni l'amico che ferma mia moglie giovani e poi cominciamo a conoscerci a frequentarci e di conseguenza questa frequentazione diciamo si può chiamare una via di netto tra il frequentarsi è un colpo di fulmine per poi diciamo costruire il nostro rapporto ecco quello ha creato secondo me la lontananza tra virgolette ha creato una maggiore vicinanza paradossale come cosa ma accade questo perché mia moglie è andata a studiare a firenze dopo tre quattro mesi io nel contempo ho fatto i militari perché voglio ricordare che oggi ci ha trent'anni che si faceva il militare si era obbligatorio all'elevo militare ho fatto 16 mesi militare allora io mi trattato li studiavo a firenze ci si vedeva una volta ogni 15 20 giorni a barletto piuttosto che a firenze quindi questa cosa ci ha cementato e nel contempo abbiamo continuato a frequentarci poi quando l'è ritornata a barletta io contestualmente ho finito il militare ho proseguito perché lavoravo contemporaneamente al periodo del militare che è una cosa formativa anche se ho avuto delle esperienze tra virgolette negative però forma moltissimo sarebbe non dico il militare ma un servizio civile non sarebbe male in questo momento farlo fare ai giovani perché innanzitutto si capisce che il mondo è vario e non esistono soltanto le persone che conosci tu dal tuo entourage ma esiste il bravo il cattivo il pulito il delinquente la persona diciamo meno serie quindi si conosce veramente la diversità dell'universo dell'universo soprattutto maschile e quindi sulla base di questo poi abbiamo ci siamo rincontrati e a quel punto abbiamo continuato cominciando a viaggiare che sono le nostre passioni possiamo tornare al nome dei figli alessandro e marco tu sei un padre apprensivo affettuoso l'affettuosità fino ai 14 15 anni si può vivere poi l'affettuosità la dimostri in altri modi apprensivo non siamo tutti i genitori perché siamo sempre preoccupati dei nostri figli che facciano la loro strada giusta siamo sempre lì per dargli possibilmente i consigli che loro poi percepiscono fino a un certo punto allora dico se io sono fortunato per due motivi sono nato maschio e lo dico con grande serenità perché le donne sono multitasking sono impegnate sotto tutti poi ognuno ha il suo ruolo ritengo e soprattutto di avere due figli maschi perché se avessi avuto anche una sola figlia femmina la mia apprensività sarebbe stata a cubo perché probabilmente vivo anche la gelosia come è stata anche con mia moglie come ancora adesso e con mia moglie quindi definirmi apprensivo no però diciamo credo di essere presente poi non lo devo dire io lo devo dire loro chi eventualmente però mi piace molto condividere con loro momenti di diletto e adesso li vedremo insieme allo stadio quando arrivano i sedi 17 anni e prendono il volo e si allontanano si sa è storia e adesso allora passiamo ad una bellissima foto dei tuoi genitori sono allegri tua madre particolarmente è una persona allegra che porta il buon umore questa è una foto di una è la foto in cui nel giorno in cui mi ha fatto 70 anni quindi parliamo di 12 anni fa il nome di tua madre mamma si chiama maria i classici i classici due innamorati no i classici nomi di barletta Lugere Maria infatti il nome della madonna di San Lugere quindi però mia mamma è di spinazzo non è di barletta poi ha conosciuto mio padre chiaramente mio papà è di barletta e questo è una foto di 12 13 anni fa quando mio papà ha fatto 40 anni quindi parliamo lo vediamo 15 ottobre quindi 15 ottobre quindi dicevo sono entrambi due personaggi due persone molto allegri mio padre è molto come posso dire di battuta facile altrettanto mia mamma ora vive un momento suo diciamo di non tranquillità fisica se così vogliamo dire ma mantiene ancora il suo spirito bello brillante bello riattivo se l'accompagnasse un po' più il movimento la deambulazione sicuramente oltretutto mio papà continua a venire in azienda fino a due tre mesi fa quotidianamente adesso per questa problematica diciamo diambulativa dovremmo un po' riportarlo giù per superare le barriere architettoniche in in casa ma fatto questo sono due persone che mi hanno dato che come è stata la tua infanzia molto molto bello io ce la ricordo con grande positività cioè con grande piacere bellezza genitori che non mi hanno per mi permetteva sostanzialmente di fare di non ti farete di fare quello che ha 8 9 10 anni poter vivere anche per strada di poter crescere con gli amici e pensavo da giocare a pallone sulle strade impolverate brecciolini una volta c'era uno spazio che era definito della pirella si sbucciava il ginocchio sistematicamente e si rompeva la vetrata della signora certo le migliori amicizie ci sono amici che è ancora frequento da allora con cui ed era di fronte proprio a casa quindi a 9 10 anni andavamo lì e quindi non ho mai avuto vincoli da nessun punto di vista chiaramente c'era dei momenti anche educativi racconto un episodio da questo punto di vista cioè mio papà non mi ha mai picchiato detto ma detto una volta rientra dal suo lavoro mi trova su un muretto perché ero salito lì sopra insomma in una situazione pericolosa mi dice di scendere l'ascensore me li ha date che me li ha date quindi quali sono momenti però che ti fanno capire il vero pericolo qual è e quindi penso tu non l'abbia fatto più e non certamente quindi per raccontare alcuni episodi poi ho avuto quindi ripeto genitori nonni io ero il primo nipote da una parte dall'altra quindi qualche coccola in più rispetto agli altri con nonne oltretutto giovani avevo due nonni di 47 anni le due donne avevano 47 anni no 48 quando sono nato quindi anche giovani volenterose disponibili nei miei confronti ho avuto una maestra delle scuole elementari spettacolari eccezione che io ricordo la maestra capacchiore che oltretutto è mancata qualche mese fa una persona splendida di vecchio stampo quindi molto legata a una formazione più rigida più se così vogliamo dire legata alle tradizioni alla storicità che ha insegnato valori fondamentali che mi ha dato dei valori fondamentali a noi e tutti quanti dove all'epoca non c'erano ancora le classi miste quindi erano una classe soltanto di ragazzi quindi ha lasciato uno strascico decisamente possibile quindi la mia infanzia è stata rispettata guardiamo qualche foto partiamo proprio da questa tua in primo piano un bellissimo bambino e ti ricordi quando è stata scattata questa foto no perché probabilmente qui ho un paio di anni la prima memoria ventone tre anni e mezzo quattro anni le prime cose che ricordo quindi questa è già più grande la prima memoria così vado ricordo una vacanza con i miei genitori forse 70 io sono del 66 70 campo verde siamo andati in campagna in montagna lì presso le api qui siamo anche ad insboc ricordo questo prato verde una partita a calcio in cui i grandi mi fanno fare gol quindi bello andiamo avanti allora qui invece abbiamo il grande pietro mennea e tu hai un ricordo legato a lui perché io lì dietro quella per me pietro mennea ma per tutti i barretti anzi mi permetto di dire pietro mennea è un'icona dello sport italiano mondiale perché secondo me da qui i prossimi 12 mila anni sarà l'ultimo uomo bianco ad aver fatto il record del mondo senza per fare discorsi nazisti perché è una questione di genetica ad aver fatto il record del mondo nella gara più veloce in assoluto quindi essere nato a barletta in un contesto è veramente che lo sto raccontando perché sappiamo chi è mennea lì dietro al centro tra l'uomo che esulta con le braccia alte e pietro mennea ci sono due ragazzini ora andando nello specifico magari potremmo se possiamo allargarla un po' allargato proprio di così non riesco questo ragazzo con la fascia a righe con la maglietta a righe quello di fianco sono io con la maglietta nera siamo due amici tra siamo due amici soprattutto giacomo corcele che io saluto caramente e siamo lì che siamo lì ad esultare perché quello il giorno in cui pietro mennea ha fatto il record del mondo sul sul a livello del mare e l'ha fatto a barletta sulla pista vecchia del bottiglia quindi ero lì ad esultare a festeggiare 13 anni perché credo che sia questa una foto del 79 solo del 66 quindi la grandissima emozione è un'emozione bellissima che poi ricordo trasferito poi le olimpiade di mosca campeggia poi le vedremo dopo l'utilizzo vai forse ha fatto dei danni ok è una foto mitica di una gita di una gita in una vacanza che oltretutto ha lasciato una vacanza quando le scuole sono tanti amici c'è un ricordo particolare legato c'è un ricordo particolare a parte che saluto tutti gli amici più presenti persone con cui mi frequento quasi quotidianamente anche in questo periodo amici davvero c'è stato anche un paio di ragazze che non erano una foto particolare che ricordo diciamo con piacere una gita scolastica che abbiamo fatto in quelle di di rimini e per cui non ho avuto in quel momento con qualche altro amico un comportamento diciamo corretto rispettoso nei confronti degli altri 50 60 ragazzi che erano con noi perché per una marachela che non sto qui a definire purtroppo siamo stati rimandati a casa un giorno prima successivamente a questa bruttissima questa quindi porto il senso di colpa in quel momento a parte che poi quell'anno poi ti sei fatto perdonare dai ragazzi con una scusa o più di quello però mi dispiace tantissimo perché tanti ragazzi tante famiglie avevano fatto magari dei sacrifici per mandare in questa gita scolastica essere per colpa mia di qualcun altro oltretutto quell'anno sono stato giustamente punito a livello scolastico perché ho perso l'anno scolastico che è un altro momento di grande formazione personale quel però aver diciamo condizionato dei momenti di diretto perché le gite scolastiche sappiamo che servono anche a quel di ragazzi che le cui famiglie abbiamo fatto dei sacrifici una cosa che mi ha segnato un po' che mi ha lasciato un senso di colpa ecco quindi tanti amici quindi conservati ancora nel tempo con alcuni ti senti e avete creato anche un gioco proprio che vi fa divertire e vi siete uniti di cosa si tratta è un gioco legato al mondo del calcio per cui attraverso diciamo un meccanismo che ci siamo inventati solamente noi diciamo di amici ne avrò centinaia ma certe nello specifico frequentatori dello stadio di barletta il barletta calcio percorso attraverso la tifosea eccetera eccetera ci siamo inventati un gioco tra di noi che facciamo da 14 anni che ci permette di mantenere viva questa che non è il fantacalcio perché magari si potrebbe è un'altra cosa totalmente esclusivamente inventata da noi che ci permette appunto poi il brevetto ce l'abbiamo chi lo vuole è veramente molto divertente che ci permette di condividere la domenica quei momenti di sfotto che servono poi per far pagare a chi perde il gioco a fine anno una cena tutti quanti via e quindi è un modo per ritrovarsi per stare insieme interagire e confrontarci quotidianamente quotidianamente dico su questo tipo tu l'hai detto prima una tua grande passione è il calcio addirittura lo sport in generale ma il calcio in particolare quindi ami seguire dal vivo quante più partite poi sia della squadra del cuore locale quindi il barletta ma anche della nazionale e questa passione tu l'hai ereditata potremmo così dire da tuo padre e l'hai trasferita anche ai tuoi figli e quindi sono questi momenti che vivete insieme assolutamente diciamo lo ereditato diciamo con mio papà frequentatori delle tribune del puttelli e anche prima dell'ello simeone perché ricordo a proposito di ricordi infantili credo che il puttelli sia stato costruito al 71 72 ricordo una barra due partite con mio padre 4 50 che mi porta al vecchio l'ello simeone poi successivamente le prime gare al puttelli le tribune in cemento e quant'altro e quelli sono stati momenti che mi hanno avvicinato perché io sono il tifoso del barletta calcio oltre e della nazionale e della nazionale seguire mi emoziono sempre perché per me sono come se vediamo le foto perché tu hai avuto anche una parentesi del calcio amatoriale cioè tu giocavi a livello proprio amatoriale questi diciamo guardando queste fotografie sono tutti amici dell'ultimo anno del penultimo anno di scientifico oltretutto ho il piacere di vedere qui rappresentati i ragazzi tutti questi ragazzi che sono qui rappresentati che dentista cioè è inutile raccontare le loro professioni ma veramente persone che hanno ottenuto nella vita dei grandissimi su tutti successi professionali e personali di altissimo livello quindi ecco il poter condividere quei momenti di diretto oltretutto quella quella scuola lì vince il tornino studentesco in quell'occasione quindi con tre miei gol in finale su quattro questo è invece una foto ultimamente scattata nel nuovo puttelli con mio papà gli ultimi momenti in cui poi mio papà è potuto venire allo stadio perché chiaramente per la diambulazione e quant'altro questo è uno scatto di azione non mi si vede l'infondo perché non è come la foto anche se zoomassi ma io c'ero l'infondo perché io ero su quella gradinata quel giorno per chi conosce questo gol questo è il gol di tardelli all'inghilterra nel 1980 a torino in una gara dell'europeo del 1980 ed è stata la mia iniziazione ma che emozione essere lì è diverso poi racconteremo dove sono stato io ma quel giorno a 14 anni vissuto con mio padre ed un'altra persona che adesso non c'è più mi ha poi tracinato nel dire io queste partite le devo vedere dal vivo che non è soltanto il momento della partita e il pre il durante il dopo e il vivere il condividere incontrare nuove persone questa è la bellezza del vivere le partite dal vivo le partite nazionali e anche del nostro Barletta calcio quelle altre fotografie era la nazionale dell'81 che emozionano tutti quanti con la vittoria del mondiale e poi i primi Barletta vorrei un attimo indietro soltanto questo è il Barletta che mi ha fatto emozionare mi ha fatto amare il 77 78 ricordo una famosa partita Barletta Catania vinta negli ultimi cinque minuti con gol di Bilar Rezzanola questo il Barletta che ha 11 anni e ha fatto sbocciare e questo il Barletta storico della vittoria del campionato 86 87 quando siamo andati per la remoto in Serie B tu hai un grande attaccamento l'hai detto al Barretta calcio ti senti ultras dentro si certo e sei stato anche tra i soci che hanno sostenuto la squadra nei sette anni senza stadio e l'hanno riportato in Serie D certo ecco cosa vuol dire sentirsi ultras dentro significa vivere quei 90 minuti al di fuori di determinate logiche comportamentali ma sempre nel rispetto dell'aspetto fisico e l'aggressività fisica è una cosa che non esiste uno può essere ultras dentro ma non aggressivo non deve assolutamente però ma viverlo con passione con sentirsi trascinare sentirsi parte integrante della gara perché quando vedi quei colori bianco rossi che coloriscono è come se corressi tu con loro è come se corressi tutte le persone amiche quindi quella condivisione poi mi ha portato nei momenti di difficoltà perché senza stadio è come se una famiglia senza casa di sette anni sono stati per noi noi tifosi del barretto un momento decisamente molto negativo e quello mi ha portato in quel momento insieme ad altri amici a dare supporto a dare anche investendo più che investendo rimettendoci perché molto difficilmente a meno che non sei non sei specificamente come posso dire non non ci lavori dentro e quindi sai come si muove ma l'imprenditura che si avvia si avvicina al mondo del calcio difficilmente porta soldi a casa o quantomeno pareggia le situazioni ma quando le cose si fanno con passione come si dice dove c'è il gusto non si perde ed è stato bello condividere con altri 6 7 amici guardiamo questa foto che mi hai mandato della maglia che ti emoziona ovviamente questo è un bellissimo regalo che mi ha fatto max pensa che il letterato del barretta calcio cioè lui ha scritto il libro sulla storia del barretta calcio fino al 1966 e sta finendo con una sedia anello e soprattutto con tutte le schede tecniche in tutte le partite è un grandissimo personaggio che oltretutto non vive a barretta vive in quel di roma e quelle mi ha regalato quella foto e l'ha regalata con tutte le maglie del barretto perché anche il barretto nel 1922 ha compito il centenario e quindi infatti vediamo questa sciarpa barretta questa sciarpa barretta 1922 che dall'altra parte scrive c'è scritto oltre oltre la categoria è la sciarpa che io porto sempre in giro ogni volta che seguo la nazionale e non solo nazionale ma quando c'è un evento sportivo legato all'italia fortuna non so perché con che partita lo penso secondo te con quello striscione barretta che oltretutto adesso lo farò un po più piccolo perché bisogna avere rispetto delle dimensioni che ho portato quella fotografia purtroppo in un momento proprio di negatività perché il giorno in cui abbiamo perso lo spareggio con la Svezia per andare ai mondiali del 2018. Questa foto? Questa foto è la festa del barretta vittorioso in Coppa Italia che non ricordo se questa è in Coppa Italia di eccellenza erano già stati promossi la settimana prima in Serie D ma poi per la prima volta il barretto è diventato campione d'Italia e questa è la foto fatta all'interno dello stadio che appunto con tutta la dirigenza dell'epoca e con tutti quando abbiamo vinto il camionio di Serie D nello spareggio di Taranto con il Martina e questi sono biglietti a cui non guardiamo diciamo il biglietto di sopra era intestato a me perché era quello del quarto di finale Italia-Ucraina del Mondiale del 2006. Quello lì sotto non leggo bene a chi è intestato non ricordo, a chi si è intestato il nominativo equadoregno forse. Sì, infatti. Perché praticamente quello del biglietto comprato per la finale del Mondiale in Francia, del Mondiale Italia-Francia in Germania, vissuta lì perché il biglietto comprato in quel momento si poteva fare infatti perché è un gruppo di ecuadoregni che sono i mille euro meglio spesi nella vita mia quel biglietto e per cui ho vissuto la finale del Mondiale alle spalle del famoso rigore di Grosso ed ecco questo è il gruppo degli amici che abbiamo visto un po' più giovani. E questa è la foto fatta, all'epoca non c'erano i cellulari, la fotografo con la macchina attiva, quando ci sono passati, ricordo piacere, oltre ad aver visto a vincere il Mondiale che credo che sia una cosa per un tifoso spettacolare a vivere dal vivo e il fatto di averlo vissuto in mezzo ai francesi che è dato più gusto devo dire perché alla fine della partita siamo rimasti in quarto sugli spalle, tutti i francesi sono ritornati a casa. Questa qui? Questi invece sono tutti i biglietti dell'Europio 2021. E tu conservavi proprio tutto? No, a parte che conservo tutto, cioè poi mi piace fare anche dei qua, io poi il mio ufficio lo chiamo in Santa Santorum perché ho tutte queste fotografie delle partite con i miei figli. Le reliquie anche? Sì, tutta una serie di reliquie, la mia scrivania, io non frequento la mia scrivania perché sono sempre in un'altra posizione, però quello è uno spazio, questi sono i biglietti di tutte le partite degli europei 2021, tra cui c'è anche la fine di Wembley e qui c'è la fotografia. Dei veri tifosi, con il viso pitturato. 750 italiani, tra i 700 italiani, tra i 750 italiani, tra cui i miei due amici, lui con la figlia, anzi altri tre miei amici perché poi c'è il mio amico di Londra con noi, tra i 750 italiani che sono in quel periodo di Covid, ecco questi sono gli altri amici con cui abbiamo condiviso quel momento di esaltazione diciamo collettiva personale e anche nazionale e questo momento della fotografia in cui sotto il settore degli ospiti gli italiani sono venuti a festeggiare con la coppa in mano, insomma. Ah, queste sono fotografie, quello è il mio figlio Marco, poi c'è anche la fotografia con mio figlio Alessandro, credo, perché diciamo c'è il club Vivo Azzurro che è un club di tifosi ufficiali della Pugice che permetteva, non so se lo permette ancora, di poter fare delle partite fan club, tra tifosi delle varie nazionali, questa è una partita, vediamo se c'è l'altro figlio, sì, c'è l'altro figlio, questa è Italia-Fillan, siamo andati a Helsinki a seguire una partita nazionale e in quell'occasione prima della partita abbiamo fatto una partita di tifosi italiani contro i tifosi finlandesi, poi mentre in quell'altra partita è una partita di tifosi tedeschi contro noi tifosi italiani, ho giocato con i miei figli e anche questa partita è finita 4 a 3, però quella volta ha vinto la Germania. E in questo modo girate anche il mondo, al momento abbiamo già quasi tutta l'Europa 35 paesi mi dicevi, tra vacanze e poi seguendo anche la nazione misto, il mondo mi auguro di poterlo girare nei prossimi mondiali del 2026 negli Stati Uniti sperando che l'Italia ci vada, quindi anche gli altri sport mi intrigano tantissimo, questo è quando sono stato a Malaga a vincere finalmente l'Italia, come si vede l'Italia, la Coppa Davis, ecco questa con altri due miei amici, carissimi amici miei, che sono più tennisti degli altri, che sono più calciofili e questo è lo striscione dell'emblema che portiamo sempre con noi, con questa foto che rappresenta, questa immagine rappresenta Menni. Questa foto l'ho messa a simbolo perché ho già prenotato, in questo caso c'è Andrea Gasol, perché mia moglie ha detto, cioè mia moglie non segue gli eventi sportivi, perché mia moglie non ha questa passione, i miei figli sì, sarò in quel dell'Olimpiade perché ho prenotato il mio volo aereo con tutta una serie di gare che andrò a vedere, quindi l'Olimpiade di Parigi me la frequenterò per una decina di giorni, perché mi manca soltanto perché sono, come dicevo prima, ho vissuto la vittoria del camion del mondo, ho vissuto la vittoria del camion d'Europa di calcio, ho vissuto la vittoria della Coppa Davis, mi manca a vedere vincere un'Olimpiade, una medaglia d'ore mondiale, quindi... Bianco come l'amore puro, rosso come il sangue nelle delle gare. Questo è un altro, un altro regalo che mi hanno fatto con le fotografie di alcuni bandestri. Non è facile fare regali a te, basta gravitare in questo ambito, è fatta. Qui abbiamo un video, c'è un audio. No, questo è il video, vabbè, quando lo vedete, vedete il certo. E allora, anche... stavate esultando, perché vedo... Questo è il video in diretta, ripreso dal mio telefonino, del gol di Bonucci dell'1-1 con la Germania, e questo, diciamo, questo è un momento di grandissima esaltazione, non mi riprendo perché, diciamo, sarei stato... Diciamo, dal movimento del telefonino si capisce il momento. Poi ho anche la ripresa di tutti i calci di rigore, però ripreso dall'altra parte, perché i calci di rigore... Allora, Mimmo, come da copione, stiamo sporando. Certo. Diciamo, però, una manciata di minuti ancora. Sì. Ecco, una curiosità, so che tu ami viaggiare e come vacanza non ami stare rilassato al sole, giustamente troppo stress, ma ami visitare musei, città, devi vedere di ogni città... Tutto. Tutto ciò che c'è da vedere. E questo diventa una frenesia, una smania. È una smania che mia moglie... Puoi spiegarvi tu, velocemente, tu in una città, cosa succede? Io faccio il programma, individuo i posti dove andare, all'inizio mia moglie mi seguiva velocissimamente. Ultimamente lei sta diventando un po' più... vuole rilassarsi maggiormente, però io ho bisogno di vedere quanti più posti e posti, perché poi le dico e mi dico. Ma quando mai ritorneremo in questo posto e possiamo perdere quella piuttosto che un'altra situazione, pertanto quante più cose possiamo vedere, tanto meglio è in termini di aspetti artistici, architettonici, storici, culturali, stare lì in un posto fermo, sì, lo posso fare per uno, barra due giorni, ma per il resto non si può fare. Il mare non mi piace tanto, devo anche dire la verità. E per quanto riguarda invece i cibi, ti piace? No, no, nessun tipo di problematica, sono aperto a qualsiasi cosa, ho mangiato cibi indiani, cibi cinesi, piuttosto che arabi, quando siamo stati fuori, quindi anzi mi piace provare nuove situazioni, poi magari la posso pagare in termini di capacità, diciamo, digestive successivamente, però devo assaggiare tutto quello che mi si pone sotto il naso. Ti faccio vedere questa foto, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, quello che ci interessa è soprattutto il numero 7, il tuo portafortuna, il numero portafortuna. Oltre, è la frase che secondo me, io ce l'ho anche come, diciamo, payoff, non so se si dice così, del mio telefonio, la canzone per me più bella al mondo è quella di De Gregori, appunto, la leva calcistica del 68, che dice che un giocatore, che cosa voglio dire, che attraverso il coraggio, il fatto di essere altruisti, deve anche inventarsi una serie di cose, si riesce probabilmente a sviluppare al meglio la propria vita, la propria vita sociale, familiare, aziendale, che cosa, e non bisogna appunto aver paura di sbagliare un calcio di rigore, come dice il buon De Gregori, perché quello ti può permettere di migliorare, ma devi tirare il calcio di rigore. Chi non lo tira, dice, no, non ho sbagliato mai, ma chi lo calcia, tre volte lo sbaglia, sette volte lo mette in porta, e quindi, ecco, il numero sette io lo porto sempre in giro con me, infatti questo è l'album Titanic, che è il contenitore di quella canzone di tanti altri meravigliosi cantori di De Gregori, che per me è l'artista numero uno del cantautorato italiano. Allora, Mimmo, concludiamo con tre aggettivi che ti caratterizzano. italiano, ma mi verrebbe da dire coraggioso, altruista e fantasioso, che prendendo spunto da quello, però aggiungerei anche, diciamo, familiare, perché credo che rispettoso dei miei collaboratori, non è un aggettivo, rispettoso dei miei collaboratori e dei miei clienti, perché senza di loro, clienti e collaboratori, non potremmo sviluppare le nostre attività, e poi il fatto, appunto, di essere, come dicevo all'inizio, di unire la parte ludica, quindi lo sport, il calcio, le frequentazioni, e la parte, l'impegno lavorativo, cioè sapere che quando si lavora, si lavora, ma quando è il momento di prendersi spazio per se stessi, per la propria famiglia, bisogna prendersi, altrimenti la vita non ha motivo di esistere da questo punto di vista. Allora, grazie per questa bella chiacchierata. Grazie a te per avermi fatto emozionare, soprattutto. È stato reciproco. Grazie a tutti voi, cari amici, per essere stati in nostra compagnia. Noi ci ritroviamo, come sempre, domani. Non mancate, grazie.